Un'operazione verità della quale, viva Dio, bisognerà essere grati alla Coffcommercio di Roma. La messa a disposizione della collettività civita vecchiese, della ricerca condotta da Format Research sulle imprese del terziario locale, ovvero della componente economica più importante, ha svelato il vero volto della città e quella che è la sua attuale situazione economica e sociale. Civita vecchia, come qualcuno, ad esempio la nostra redazione, va dicendo da qualche anno, è una città assolutamente in declino. Basterebbe analizzare con attenzione i dati demografici senza soffermarsi solo sull'alibi della crisi delle nascite, guardando invece ai numeri che riguardano il fenomeno migratorio per avere ulteriori conferme di quanto emerso dallo studio commissionato da Coffcommercio. Studio che, peraltro, ha svelato un'altra fandonia costruita d'arte per far vedere che va tutto bene, madama la Marchesa, ovvero che la città trae enorme beneficio dal crocerismo. In realtà, come ampiamente sviscerato dalla ricerca, fatta eccezione per i locali pubblici e gli alberghi, nel resto del terziario civita vecchiese, i croceristi hanno un ruolo marginale, sia in termini di presenze che in quello strettamente economico, visto che spendono pochissimo nei negozi tradizionali. E si potrebbe andare oltre, scendendo ulteriormente nello specifico della ricerca condotta da Format Research. Ma, d'altra parte, quale può essere la situazione economica e sociale di una città che negli anni ha perso gran parte degli introiti un tempo garantiti dalle commesse affidate nelle centrali termoelettriche e ha visto frantumarsi categorie un tempo di eccellenza, come quella dei metalmeccanici? Quale può essere lo stato di salute di una città nella quale il Porto ha un'importanza fondamentale, ma i cui numeri reali relativamente ai traffici commerciali e non dovrebbero fare impallidire, invece si cerca di fornire un'immagine completamente diversa, di grande salute, di un comparto che invece, tranne che per le crociere, è in difficoltà da oltre dieci anni. E quindi, viva Dio, ci ripetiamo, quando qualcuno ha il coraggio di svelare le verità nascoste.